Buongiorno Vittorio, grazie della tua presenza qua con noi. Ciao Francesco. Allora, stamattina io avrei voglia di parlare con te del rapporto che c'è tra le neuroscienze e la psichiatria. In realtà le neuroscienze sono plurali, la psichiatria, benché si chiami solo psichiatria, anche lei è abbastanza plurale, notoriamente, nel senso che ci sono, come ben sappiamo, posizioni a volte diametralmente opposte rispetto a tutto, all'ipistemologia e anche alla pratica clinica che da essa discende. Ecco io ti volevo chiedere che rapporto hanno le neuroscienze con la psichiatria. Allora, è un tema, come già si intuisce da quello che è appena detto, molto complesso. Io scinderei questo tema in due parti. Una prima più generale e cioè, come posso vedere io, da non psichiatra, ma da neuroscienziato il rapporto tra neuroscienze e psichiatria. E poi, secondariamente, come lo vivo io in quanto neuroscienziato che si interfaccia, dialoga, collabora e fa ricerca con gli psichiatri. Dal primo punto di vista, come dicevo, io parlo delle neuroscienze da neuroscienziato e di psichiatria da non psichiatra. Quello che vedo, sia nelle neuroscienze che in psichiatria, è un campo mobile, in movimento, un cantiere. Cioè, vedo due dibattiti che spesso si intersecano. Un dibattito in neuroscienze che riguarda oggi più che mai qual è l'oggetto della nostra ricerca, qual è il collante, a che livello possiamo capire meglio e di più. E quindi c'è chi parla di sistemi dinamici, del guardare non al neurone, ma al cervello nella sua complessità. E dall'altro lato, in ambito psichiatrico, io vedo un continuum che ha un'estremità, in qualche modo rivitalizza argomenti antipsichiatrici e che quindi vede il benessere psichico mentale come un processo, nella migliore delle ipotesi, polifunzionale in cui gli aspetti predominanti non vengono trattati a favore, diciamo in qualche modo di una psichiatria cervellocentrica, organicistica, farmacodipendente e dall'altro appunto una psichiatria neocrepeliniana che vede nel categoriale l'unica possibile dimensione e che quindi cerca, nel rapporto con le neuroscienze, di in qualche modo traguardare questa nosografia in termini di disfunzioni organiche del cervello a vari livelli, più spesso a livello di neurotrasmissione e quindi la malattia mentale è una disorganizzazione del cocktail fisiologico di neurotrasmettitori che normalmente consente al nostro cervello di funzionare e quindi la risposta della psichiatria è di fronte al paziente, perché il paziente in questa ottica rimane ineludibile e in questo rapporto incarnato con il paziente questo tipo di psichiatria, il tipo di risposta che dà è tradurre l'esistenza del paziente in una nosografia individuata alla quale l'applicazione di un protocollo terapeutico psicofarmacologico da aggiustare con o senza un parallelo approccio psicoterapeutico. All'altro estremo dello spettro, quello antipsichiatrico, mi sembra di capire che il dialogo con le neuroscienze non c'è perché si parla di famiglia, si parla di società, si parla di modello economico, si parla di società prestazionale e quindi le neuroscienze possono entrare solo indirettamente come interlocutore nell'affrontare il tema della società da un punto di vista eventualmente neuroscientifico, ma non è più un rapporto con la psichiatria. Dall'altro c'è questo estremo in mezzo dove cerco di collocarmi, c'è una consapevolezza della dimensione organica e dell'inuridibilità del cervello, se si vuole parlare di psichiatria, cervello come condizione necessaria ma non sufficiente. Detto questo poi c'è una psichiatria che ha una tradizione gloriosa che se vuoi la puoi fare partire dalla pubblicazione del trattato di psicopatologia di Jaspers poco più di cento anni fa, che si pone il problema del disturbo, della condizione mentale come una condizione esistenziale e che quindi in quanto tale va affrontata con un ventaglio di domande che investono il tema dell'esperienza, il tema dell'intersoggettività, il tema del corpo, il tema dell'empatia e quindi in questo ambito psicopatologico che ha una grande componente fenomenologica ma non esclusivamente fenomenologica, il dialogo con le neuroscienze può avvenire con quelle neuroscienze che si pongono come tema fondamentale della ricerca, quello del sé, quello dell'intersoggettività, dell'intercorporeità, dell'empatia e dell'esperienza. Ed è il dialogo e la collaborazione scientifica che io interpreto come neuroscienziato con gli psichiatri con cui sto lavorando e lavoro da anni su questi temi. Ecco, ma in questo senso mi sembra di capire che un rischio che è presente in tutta la medicina, nella psichiatria da sempre e che tu vorresti in qualche maniera evitare, è quello del riduzionismo, nel senso che un grosso rischio che mi sembra che ci sia dentro un approccio correttamente scientifico del funzionamento cerebrale, perché poi questo comunque è indispensabile, però nel momento in cui tu mi richiami la fenomenologia e quindi un approccio un pochettino più, come dire, esistenziale del disturbo, questo non significa, e ci sono i tuoi lavori con quel gran uomo che è il professor Ferro, in questo senso a testimoniarlo, che in qualche maniera tu dici che si può fare della neuroscienza non riduzionistica, ancorché più difficile da delimitare, perché più siamo riduzionisti più troviamo delle apparenti risposte certe, questo è un dato di fatto tipico e classico della scienza, più stiamo nel piccolo più troviamo delle risposte rassicuranti, più ci allarghiamo e complichiamo il quadro, più probabilmente le risposte diventano un pochettino meno definite, eppure quella secondo me è la via, o quantomeno è il tuo approccio, giusto? Sì, 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 non c'è dubbio, è il mio approccio sicuramente, allora sul tema del riduzionismo secondo me bisogna capire bene di che tipo di riduzionismo stiamo parlando, c'è un riduzionismo che secondo me è inevitabile e che è quello di traguardare, cercare di mettere in relazione, se non trovare un nesso di causa e effetto, ma accontentiamoci di trovare una relazione significativa, tra un aspetto polimorfo e complesso, quale può essere quello come vivo la mia vita in rapporto al mondo e in rapporto agli altri e che cosa succede quando questo rapporto si disgrega, viene meno e si riconfigura, mi fa stare male, non ci sto più dentro, ok? Questo tipo di problema, come dicevi tu adesso, lo possiamo leggere a più livelli, è inevitabile se lo vuoi affrontare con un metodo scientifico, isolare delle variabili, queste variabili le puoi isolare a livello dei neurotrasmettitori e questo livello di descrizione ha prodotto dei farmaci che indubbiamente hanno cambiato la vita delle persone, forse addirittura hanno reso possibile il realizzarsi di riforme da troppo tempo attese, senza però poi qui potremmo partire con una deriva sulla psicofarmacologia, ma stiamo ai fatti, diciamo siamo riusciti attraverso lo studio del cervello a trovare dei presidi terapeutici che in parte migliorano la situazione esistenziale di queste persone che hanno questa riconfigurazione della loro esperienza con il mondo. Questa esperienza con il mondo però la puoi leggere anche in una dimensione più olistica che ha sempre il cervello tra i protagonisti ma che allarga la visione a un organicismo multisistemico e sempre riduzionismo, perché tu stai parlando della mia melanconia, del mio delirio persecutorio o della mia centralità o dei miei rituali ossessivi trasferendolo al livello del cervello, del cuore, della teoria polivagale, delle mediazioni infiammatorie ma questa riduzione non è ontologica. A me interessa poi tornare al livello personale di descrizione cioè quello del paziente che mi dice non dormo la notte perché ho paura che qualcuno manipoli il mio pensiero o non esco più di casa perché la gente mi terrorizza. Vabbè potrei continuare, no? Capisci? Quindi diciamo siccome abbiamo a che vedere con una struttura poliedrica a più strati che puoi indagare, su cui ti puoi interrogare in mille modi diversi, io credo che la molteplicità degli approcci sia un fatto buono. Poi come dicevi tu il trucco sarebbe cercare di metterli in relazione tra di loro per cercare di costruire una sintesi. Ecco però, perdonami Vittorio, io quando ti ho chiesto il rapporto con le psichiatrie io ho un timore che in realtà si finisca per avere le molte neuroscienze che dialogano con le psichiatrie con cui vanno d'accordo e questo secondo me è il problema dei problemi perché il mio sogno non è che bisogna andare per forza d'accordo, però cercare una sintesi credo che sia importante soprattutto dal lato dei pazienti, voglio dire, delle persone che stanno male e non soltanto dal lato della conferma dei nostri modelli, non trovi? Ecco vedi, ma tu secondo me hai centrato l'obiettivo con l'ultima frase, cioè noi dovremmo sempre partire dai pazienti, se parliamo di psichiatria, ma anche se parliamo di neuroscienze, cioè noi dobbiamo partire dall'individuo, dalla persona e quindi se un modello mi dice che non è mia, ma la trovo molto carina, l'emicrania, la cefalea è un deficit di aspirina, capisci bene che se lo trasli in ambito psichiatrico le similitudini con molte cose da cui siamo bombardati sono automatiche, quindi se noi partiamo dal paziente, allora lì ci sono delle psichiatrie, una psichiatria in particolare, a cui sono legato anche proprio come formazione personale e quindi evidentemente, forse anche da un punto di vista affettivo, anche per le tante persone che la incarnano e l'hanno incarnata e che mi hanno fatto crescere in questo ambito, se tu ti poni da subito nella dimensione del paziente non puoi che partire da un approccio dimensionale, perché il paziente è un individuo, è un essere umano e come tali incarna una delle molteplici possibili modalità di vivere un'esistenza, allora se questo è il punto di partenza, secondo me non è totipotente, cioè non ogni psichiatria può fino in fondo riconoscersi in questo punto nodale di partenza, se non come una temporanea esplorazione in un livello di descrizione inimmaginabile, quando i fondamenti di questa psicopatologia venivano posti, ma per tornare lì, per tornare al paziente e quindi ovvio che abbiamo bisogno di nuovi farmaci più efficaci di quelli che abbiamo oggi e la ricerca lì deve moltiplicarsi, invece in molti ambiti sembra che ci sia un chiamarsi fuori verso settori più remunerativi da un punto di vista scientifico, quindi tornando al tema che ponevi tu, è così, alcune neuroscienze dialogano con certe tipologie di psichiatria laddove il fit appare più naturale e ci sarebbe bisogno della sintesi di cui parlavamo prima, di una sintesi che tenga insieme tutti questi livelli di descrizione, ma con l'unico obiettivo di rendere, di ottimizzare il rapporto con la persona che viene a te perché sta male, questo dovrebbe essere e quindi lì non tutte le psichiatrie hanno lo stesso dal mio punto di vista coefficiente etico, quindi una psichiatria più dimensionale che categoriale è più vicina a un'idea di umano, a un modello antropologico che mi sembra eticamente superiore a quello della meccanizzazione totale dell'individuo, che è un rischio della deriva di quell'altra psichiatria troppo organicista. L'ultima domanda è una domanda di base, in realtà io ho l'impressione che purtroppo in questo mondo l'interesse e gli interessi che si muovono dietro a certe ricerche possano indirizzare l'attenzione più che a una visione dimensionale, ad una visione categoriale e che conseguentemente mi viene da dire che una neuroscienza che faccia il paio con le scale di valutazione con le X messe in un questionario è molto più funzionale a certi interessi economici rispetto ad una neuroscienza dimensionale che si pone tante domande come se le pone la psichiatria dimensionale e a volte si trova a non avere delle risposte. Lo so, d'altra parte però capisco la tua lettura politico-sociologica di questo contrasto, di questa dicotomia che è pure vera, sottoscrivo, ma non è tutto, c'è anche una più logica sintonia da un lato e potenziale di affermazione di questo connubio tra una psichiatria dimensionale e quindi quantitativa e un metodo scientifico che per sua definizione deve essere quantitativo. L'altro connubio di cui parlavamo prima e cioè quello tra una psichiatria più dimensionale e un tipo di neuroscienza più centrato sul tema dell'esperienza ha sempre comunque bisogno di un fit quantitativo in quanto espressione di un riduzionismo di metodo, devi ridurre la complessità a delle cose che puoi misurare, di cui puoi valutare la significatività statistica e allora è molto più difficile arrivare alla quantificazione statistica avendo come oggetto il qualitativo, cioè l'esperienza, che non nell'altro modo, ma è possibile, noi con Ferro lo abbiamo fatto, continuiamo a farlo anche a Parma, con Marchesi, con Tonna, cioè con la De Panfidis, con gli psichiatri con cui lavoro, con Di Gianno Antonio, ancora Chieti, cioè noi utilizziamo delle scale, ma sono scale che hanno l'ambizione di misurare l'esperienza e quindi parliamo della scala dei sintomi di base di Bonn, parliamo delle ASE di Parnas, quindi il fatto che l'altro modello sia più predominante è sicuramente legato ai motivi che elencavi tu, che sono sicuramente molto importanti, ma c'è anche un intrinseco aspetto metodologico epistemologico che rende più facile quantificare ciò che hai già pre-quantificato a livello clinico diagnostico che non andare a quantificare l'esperienza. Ti ringrazio Vittorio, voglio dire hai lasciato, fammi concludere con un commento, hai lasciato in realtà la porta aperta alla speranza e questo a me piace, nel senso che io ci vedo nelle tue parole una prospettiva di sviluppo maggiore di quanto apparentemente la complessità ci porta, cioè in realtà fare della buona scienza è sempre buona scienza e quindi prima o poi c'è la speranza che possa avere anche successo al di là del fatto, lo ribadisco, che possa apparentemente non rappresentare un interesse, ma su questo io ho dei dubbi perché io ritorno alla mia idea, parliamo sempre del nostro povero corpo e non è detto che attraverso le tue ricerche non si possa anche trovare una qualche molecola che può aiutarci, voglio dire non è che si debba… Ah certo, ma noi lavoriamo anche per quello, è ovvio, sarei un folle se scindessi due aspetti, ho cercato di dirlo ripetutamente, noi dobbiamo tenere insieme tutti questi approcci, questa è la sfida e quindi in una pluralità di psichiatrie come di neuroscienze, lasciamelo dire, ci vedo il bicchiere mezzo pieno. Anche io, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.